Buonasera, Lorenzo Maraglio, legazione del Partito Socialista Italiano, PSI. Abbiamo avuto un incontro molto positivo con il Presidente Caminato Conte, l'abbiamo trovato molto attivo, convito, determinato, non soltanto ad offrire a questo Paese la costituzione di un governo di ampio respiro che ha detto fino a fine legislatura, ma che metta in campo una nuova prospettiva incinerante politica per il Paese, che rilanci questo Paese nei settori cruciali dell'economia, del tutto, della scuola, del welfare, del lavoro. Abbiamo lasciato al Presidente Caminato i spunti programmatici che il Partito Socialista Italiano ha definito le quali siamo molto legati, a partire dal lavoro, da un piano nazionale straordinario di lavoro per integrare nella pubblica amministrazione le decine di migliaia di persone che sono riuscite, a garanzia dei servizi che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini, ambiente, welfare, scuola pubblica, continuità didattica, quindi attenzione particolare sui giovani, trovando una disponibilità molto seria. Questo è un progetto e un approccio riformista che abbiamo condiviso. Evidente che ci siamo lasciati con un aggiornamento che faremo noi, dovendo approfondire questi temi, questo incontro che ci è sembrato così, definiremo ovviamente. Nei prossimi giorni ci risentiremo e aggiorneremo per vedere il dafarsi così. Grazie.